Campo basso sciocchi in quel di Teramo contro un San Nicolò tutto pepe che battendo il rosso blu c'entra il primo successo interno. Il campo basso seguito da circa 50 tifosi a contrada piano d'accio appare privo di gioco e incapace di mutare il ritmo della gara. Carenze innate, capellacci attualmente restio a lasciare la barca e minadeo. È giusto che siano sul banco degli imputati dopo una tale carestia di risultati nelle prime sei giornate. Epifani fedele al 4-3-3 si gode una vittoria meritata e mai messa in discussione. Al Bonolis accade poco nella prima mezz'ora quando la sensazione epidermica è che una squadra aspetti l'errore dell'altra per colpire difese alte tant'è che quella rosso blu riesce a buttare Moretti in offside dopo questo colpo di testa del ventiduesimo. Il cross era stato di Margarita. Gli ospiti vogliono fare male. Al ventiseiesimo la difesa bianca-azzurra neutralizza un potenziale pericolo partito dai piedi di Bucchi. Il nome di Daniele e Margarita farà brividire i rosso blu già graffiati dall'esterno nello scorso mese di maggio. Il film si ripete alla mezz'ora quando Mozzoni dipinge molto bene dal fondo. Margarita corregge al volo per quella che è una prodezza d'applausi. Sarà pure il gol partita. Cappellacci conferma l'undici su cui il Chieti aveva Mara maldeggiato una settimana prima fatta eccezione per il rientro di Sant'Angeli a destra e Carminucci spostato al centro. Anche questo è stato un marchiano errore di valutazione del tecnico rosso blu. Epifani deve rinunciare all'infortunato Moretti. Dal trentaseiesimo in suo luogo entra l'ex di turno Lazzarini. Quest'ultimo potrebbe già mettere la parola fine al match. Al quarantaduesimo qua del traversone di Margarita è colpito al volo e parato da Capuano ad altezza primo palo. Un minuto ancora per un tiro senza pretese di Boldrini che sarà poi uno dei peggiori del Bonolis. Tempo chiuso con una conclusione sul primo palo di Alessandro deviata da calore in calcio d'angolo. Anche l'attaccante ex Cosenz San Benedettese si rivela impalpabile tant'è che Cappellacci lo estromette dal primo della ripresa per Dimas. Margarita letteralmente incontenibile al secondo della ripresa un'incredibile traversa da 40 metri con Capuano fuori dai pali colpita dall'autore del gol. Il campo basso è in balia di un avversario che non vuole saperne di proteggere il vantaggio. Alto di un palmo al dodicesimo il destro di Massetti mentre al sedicesimo il pericolo Terramano nasce. Pensate un po' da un corner per gli ospiti mal sfruttato e destinato ad innescare il contropiede locale. C'è Merlonghi che va a servire l'inserimento di Margarita che ha la pecca di colpire Capuano sul più bello. San Nicolò vicino al raddoppio. Cappellacci dal diciottesimo rinuncia a Boldrini per provare con Todino le quattro punte in campo. Il vero tiro lo fa Dimas al ventunesimo ma calore dimostra di salvaguardare bene il proprio palo. Un minuto ancora per lo schiaffo impresso la sfera sempre da calore. Dimas l'autore del corner. La gara si chiude quando Capuano al ventitresimo si fa espellere controllando male un pallone in suo possesso e voluto da Merlonghi che disturbava l'estremo rosso blu. Braccio fuori aria segnalato dall'assistente. Grande sbavatura del portiere del campo basso. Il tecnico ospite decide fuori fiore dentro l'altro portiere grillo. E' soltanto illusorio. Il gol di Valentini del ventinovesimo annullato per fuori gioco dopo il tocco di Todino. Al trentatresimo la punizione di Dimas è ciccata da censori, da Bucchi e poi crossata da Fusaro ma del tutto inutilmente. I tifosi del campo basso chiedono ai giocatori di onorare la maglietta cosa che non sta avvenendo. A fine partita Cappellacci rilascia le consuete interviste di prammatica prima del nuovo incontro con alcuni tifosi che gli chiedono esplicitamente e con grande dignità di togliere il disturbo. Cappellacci risponde con un silenzio senza senso tutto questo nell'inerzia totale della società rosso blu. Fai l'uomo, fai l'uomo. Una firma è più grazie alla città di San Pompasso perché è la di Bucchi e l'uomo, fai l'uomo, fai l'uomo, fai l'uomo, fai l'uomo. Grazie. 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 Grazie.